La differenza tra il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano Le differenze principali sono le seguenti La area di produzione per il Parmigiano Reggiano Il Grana Padano è in parte del nord del rivino Po Especialmente nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena Il Grana Padano è creato nella parte del nord del rivino Po La area di produzione è più grande nel nord dell'Italia Un'altra differenza è la agezza La agezza minimale per il Parmigiano Reggiano è 12 mesi E per il Grana Padano è 9 mesi Un'altra differenza importante riguarda il cuore Il Consorzio del Grana Padano è permesso di cuore Vedere il Grana Padano è necessario Dicato nella parte del Parmigiano Reggiano E per il Parmigiano Reggiano è necessario Modena si muove per cuore Che fanno solo cacao Paolo abbia un buon vino E dico che ti raccomando a provare l'altro Quali è il vostro preferente? Mh, lo amico pari Grazie a tutti.